Ciao a tutti ragazzi, io sono Elena e Michele è andato in vacanza quindi ho deciso di invitare Nonna Michecina Nonna Michecina vieni! Ciao a tutti ragazzi, io sono Nonna Michecina, sono molto felice di essere little nata su questo canale e oggi sono qui per dimostrarvi come si fuma l'incenso, accendo l'incenso, questo è un bastoncino di incenso alla vaniglia faccio così ed esce il fuma e ora faccio così è davvero buona scusate ragazzi, l'incenso mi provoca questi effetti ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!